Cosa sta facendo? Volevo solo dirle ciao. Ciao. Dovremmo sposarci. Voglio pensare solo a noi due. Certi amori. Tu hai un figlio? Stai mentendo. Non ti lasciano più andare. Tutto quello che hai fatto, lo hai fatto per noi. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence. Non posso perderti. Vorrei parlare con sua moglie. Ieri notte c'è stato un omicidio. Una folle passione. Dal 30 ottobre.